Bene, vediamo cosa ci dirà il signorino. Il Padre assolverà il peccatore. Manda il peccatore a nord. Famiglia del nuovo Eden, avete cercato nel vostro cuore e credete che il peccatore debba cercare il Padre? Sì. È sicuro. Il Padre ha pietà dei peccatori. Sappiamo bene che siamo tutti i Suoi figli. Preparate il sacramento. Sì, il sacramento portate il sacramento. Fallo bene. Il Padre ci guida in questo momento. Fallo bene. Ti prego. Il peccatore andrà in pellegrinaggio a nord e ci riporterà il Padre. Sì, la lode a Joseph. Amen. 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 Questo ti aiuterà a superare la soglia senza morire. Cosa? Ma perché ho la maschera? Portami delle prove della sua morte in modo che sappiano che io sono il loro profeta. A quel punto vi aiuterò. Ma avremo ciò che vogliamo. Ti mostreremo la via. Buongiorno. Grazie. Eh, quel cazzo che ammoglio le mie cose. Mi sa che mi avete stondinato. E questo qui che cazzo è questo qua? Ascoltami bene. Joseph ha un santuario a sua notte. Segui il rito e accendi i segnali di fuoco lungo la via. Dubito che il vecchio sia vivo e possa vederli, ma non accenderli ti costerà la vita. Perché pur con tutto il sacramento, il nord può ucciderti. Questa barca e il fuoco ti consentiranno di passare senza intoppi. Non allontanarti mai da essi, a meno che non sia assolutamente necessario. Usa l'arco per accendere i segnali con le frecce incendiarie. Portami la prova che mio padre è morto. E io farò in modo che tu sia ricordato come un amico del profeta. Ora vai, con la mia benedizione. Ok. Ma se non è morto, che devo fare? Lo devo ammazzare io. Bah. Vai al nord. Ecco, perché a me mancano alcune cose. Tipo, mi manca un'ultima ricerca del tesoro. Non mi ricordo quanti iPod di musica mi mancano comunque. Sì, mi manca ancora quel cosina. E mi stavo appunto chiedendo se ci fosse un altro pezzetto di mappa che magari si scopre con... Appunto, ad andare avanti con la stile principale. Perché io alcune zone non le potevo visitare. Tipo questa. Mi pare che non ci potevo venire. Perché appunto c'era la missione principale di mezzo, quindi l'ho saltata a sta zona. Mi sento molto calonte. Non so perché. Oh, e questi? No, stavo pregando. Porca loca. Ma tipo questa sarebbe zona... Non so. Sono radiazioni. Non ho l'idea. Perché alcune zone della mappa non me le fa controllare. Mi dice che ci sono radiazioni di tornare indietro. Ok, guarda, c'è il segnale di fuoco. Il fuoco ti protegge dal Gaudio. Comunque di ambientazione mi piace a me. Secondo me Far Cry può diventare come un Call of Duty. Una volta l'anno. Ah, però è bello Far Cry. Io non ci rinuncerei. Cioè, sinceramente. Piacerebbe gli dessero un'ambientazione un po' più cazzuta. Qualcosa fuori dalle righe. Non lo so. Ma cosa? Merda, è vero. Vedo qui ad ammazzarmi, ciao. Eh, sì. Dovrei rimettermi alla guida. Trovo modo per aprire l'ingresso. Ok. E io che pensavo fosse finito tutto qua. Non mi cambia le frecce. Ne ho un botto. Un botto di munizioni. Un botto di roba. Ho potenziato tutto l'accampamento al massimo. Non c'ho più nulla da fare proprio. Solo le miserie principali. Porca, tra l'altro i pescioloni lì. Minchia. E che sono? Trova. Ah, trova. Tanto di danno mi fanno veramente polco. Eeeh, cc. Io come... Come faccio? Aspetta un attimo. Questi li prendo. Le molle. Vado a vedere la mappa. Dove risulta? Ah, vedi? La mappa risulta infatti che siamo andati oltre. Quindi sicuramente poi in queste cazzo di zone qua. Eeeh, vedi? Qua sicuramente ci troverò qualcosa. L'ultima cosa che mi manca. Me lo sento. Eeeh, l'ultima molla? Del last molla? Tiro. Oh, zio. Lai il pesciolo, dai. Ah! Ok. A me rodo il culo. Lascia... Oh, ecco l'ultimo molla dov'è. Ma in acqua mi posso buttare? Uh! Tratto su un ramo. Ci picchi al merlo. Comunque, ovviamente sono giochi diversi eccetera. Per un metro mi ha intrattenuto molto di più di Far Cry. Questo Far Cry serve un DLC un po' allungato, no? Anche perché le missili sono poche. Cioè, 22 missili sono poche. Non mi ricordo quanto erano nel 5. Però mi sembra siano pochine. Infatti tipo... Cioè, ho preferito giocare un po' più di cazzimese saltando le missioni principali e facendo altre perché altrimenti... Ciao. Cioè, questo probabilmente lo finino in 3-4 let's play al massimo. Se faccio parti da 40 minuti e faccio una missione dietro l'altra Cioè, finisci abbastanza in fretta, credo, no? Brucia, brucia. Eh, più di più di un po' fanno andata. Ok, ufficio. Val, 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 acqua. Tutte le cose che ci saranno sono qui. Quasi. Quattro su sede troviamo lì, ok. Della serie non sappiamo dove mettere. Allora, noi non le ficchiamo tutte qua. Ti rendiamo la vita più semplice. E poi le ultime due qua. Io non ho parole. Madonna. Ho fatto tutto ciò che mi è stato chiesto. Ho sacrificato. Me stesso. La famiglia. Io ero la guida all'interno del nuovo mondo. Doveva essere meraviglioso. Mi sbagliavo. Mi sbagliavo. Ho atteso così a lungo che venisse qualcuno. iniziavo a disperare. Ho già visto prima il tuo viso. Dio me l'ha mostrato in un sogno. Sapevo che saresti venuto a rimediare alle ingiustizie. A fare esattamente ciò che deve essere fatto. Sapevo che portavi salvezza. Stai cercando aiuto. Non posso dartelo perché soltanto Dio può. Ma Lui ha un piano per te. Seguimi. Vieni con me. Sei qui per aiutare la tua gente. Ed è ammirevole. Dopo il fuoco purificatore del Signore, ho visto il viaggio che Lui aveva preparato per noi. E ho capito cosa ci sarebbe servito per la nostra vita nel nuovo Eden. Quando l'umanità è emersa, ho radunato il mio gregge e l'ho diretto verso una nuova strada. Il rifiuto di tutto ciò che apparteneva al vecchio mondo. Una nuova società dove vivere dei prodotti della Terra senza avarizia. Negli anni più duri dell'inverno nucleare. Disperavo. E nella disperazione trovai la salvezza. Quest'albero. Il suo frutto è un dono di Dio. Ha dato alla mia famiglia la forza necessaria per superare fame e malattie. Il nuovo Eden ha prosperato. Abbiamo creato il paradiso in terra. Ma non è durato. Per colpa della piaga delle locuste. Questi guerrieri della strada sono tutto ciò che Dio ci ha detto di lasciarci alle spalle. Le loro anime sono marce, malate. Ma tu... Tu sei diverso. Credo che la tua anima sia degna. Ok. Bello che sta albero. Mi piace. Tutro bene però. è questo l'aiuto che stavi cercando Dio ce l'ha donato ecco ciò che ha sostentato la mia famiglia nei momenti bui lascia che te lo offra il nostro miracolo la prima volta che ho assaggiato questo dono ho dovuto affrontare una famelica bestia era la mia anima e in quell'istante ho capito che per essere degno del dono di Dio avrei dovuto uccidere la bestia purificare la mia anima perché se non l'avessi fatto essa mi avrebbe consumato è la prova di Dio purifica l'anima uccidi la bestia se ce la fai se la tua anima è pura e sei la guida mandata dal Signore tornerò dal mio esilio il nostro miracolo ci ha permesso di sopravvivere ma i suoi doni hanno delle condizioni è un miracolo che nutre l'anima di una persona e se quell'anima è deviata il miracolo si fa maledizione segui le mie istruzioni o non sopravvivrai si fa interessante ho le mie armi almeno si ma loro hanno paura trovo la bestia trovo la bestia ho un lisci colpisci la tua bestia laddove hai più debole il pancino ma questo cazzo di cosa cosa decero non puoi combattere la tua bestia nell'oscurità non semplice che si incendiare il pc i segni di fuoco dov'è bastardo mi che era la volta di vita no no credo quattro il titolo ho fatto la scuola condivandolo la barba bastardo Lo fai saltare in aria Guarda Cioè loro le preceplosive Ecco quando sale così Lo manco perché ovviamente Lo strecco anche così Non ci pede una vita Alzati in piedi guarda Ciccione Cioè è possibile capite E qua adesso c'è un simbito Pezzo di merda guarda Di nuovo Questa è la vita che mi ha levato Ma che è Un giro molto poco qua Ah merda Pezzo di merda Oh Un chio Il fuoco purificherà l'anima Ma che scatina la forza che scorre dentro di te poi mi spieghi cosa è sta merda oddio che succede batte scherzato a pugni bellissimo cioè bellissimo cioè parliamone ecco perché sono venuto qui c'è chi non deve entrare in possesso del miracolo anche se gli voglio bene anche se è carne della mia carne dobbiamo affamare la bestia del peccato sarà il pastore del mio popolo vieni con me nel nuovo eden il nostro futuro dipende dal rispetto dei miei ordini basta sperare che joseph ci salvi non tornerà indietro dobbiamo riuscire a dimenticarlo per sempre e padre eden padre il padre padre dove sei stato noi siamo sotto assedio e il popolo è in pericolo sei sparito tu ci hai lasciato nel momento del bisogno perché per ascoltare il piano di dio figlio figli miei so che avete sofferto e so che avete paura vi sono stato lontano per molto tempo ma io non vi ho abbandonato dio mi ha parlato e mi ha indicato la via per uscire dall'oscurità il tempo di nascondersi fra queste mura è ormai finito non dovremo più sperare che questa piaga delle locuste ci lasci finalmente in pace il momento di lottare è adesso e così dio ci ha inviato la sua spada ecco dio ha messo alla prova la sua anima perché fosse giusta e fosse pura e sono venuto qui davanti a voi a testimoniare che questo straniero è il nostro pastore padre e insieme sconfiggeremo le orde che stanno assediando queste mura e insieme noi marceremo verso il futuro che dio ci ha promesso no tu mi hai abbandonato tu hai abbandonato noi senza una parola senza istruzioni li ho guidati da solo come meglio ho potuto e adesso adesso torni indietro come se fossi sceso dalle nuvole pretendi di comandare sì adesso sono io che comando il nuovo eden segue me noi seguiremo il padre figlio so che hai dovuto portare un pesante fardello in mia assenza lo capisco questa è la volontà di dio a volte ci hai richiesto di sacrificare ciò che vogliamo per rispettare la volontà di dio tu cosa hai mai sacrificato un giorno vedrai la luce te lo prometto forza andiamo tutti insieme abbiamo molto lavoro da fare ok mille villi devo parlare il cappuccio a quello secondo me è mica il protagonista del 5 tutti i miei prescelti combattono già contro i guerrieri della strada di notte adesso chiederò loro di trovare le forze per lottare anche di giorno la tua gente dovrà sfruttare al meglio questo diversivo e agire alla svelta non possiamo combattere per sempre tu invece ricorda il dono di dio ciò che hai provato è solo un assaggio del suo potere non lo sprecare inoltre darò licenza al mio giudice di seguirti parla una sola lingua quella della violenza ti sarà di grande aiuto prima di diventare il pastore devi essere la nostra spada va e rendi questa terra sicura per tutti gli uomini di buona volontà ok ok segreto di Joseph che cazzo mi ha dato roba in più torno al ladder cosa mi abbia dato tratti in più fa vedere parca traia si guarda ira balzo della fede fantasma tocco del parca puttana eeeh non lo so banzo della fede mi sembra ok qui li facciamo tutti tanto qui parca troia ecco infatti abbiamo un altro tizio ma non lo voglio rimanetele se rompe i coglioni eeeh io vado a fare la prossima missione vedete qua però ci abbiamo ci ho sbloccato così poi dovrò andare a controllare per i cazzi miei perchè sicuramente in questa zona c'è l'ultima ricerca al tesoro che mi serve quindi si qua c'è un'altra missione ma non è quella che dobbiamo fare hai la testa dura coniglio ti abbiamo detto di smettere di crearci problemi non ci hai ascoltato ci siamo presi i tuoi amici pure a rush vieni alla fabbrica del concime te la insegniamo noi una lezione ci stiamo cacando sotto e dov'è sta merda di missione eccoti coniglio ti abbiamo avvisato ma tu e rush continuate a crearci troppi problemi quindi abbiamo dovuto prendere in mano la situazione ora tocca a noi creare problemi a voi questa gente conta su di te e noi gli faremo capire che razza di maledizione sei c'è un rumore di esplosivo non volevo che finisse così è stato un onore che cazzo è sto rumore ecco qua è finito è tutto finito siamo finiti il tempo passa guardali la porta non si aprirà da sola merda è stato un onore è stato un onore è stato un onore non hai scelta così impari a metterti contro di noi fuuuuuck abbiamo avvisato abbiamo avvisato ti abbiamo avvisato cazzo si impara sempre qualcosa lo diceva sempre il vecchio ora tu e il rush imparerete ma scusa dove disinnescare le bombe è stato un onore perché mai ma ecco perché spero tutto bene non voglio neanche sapere cosa sta succedendo zucchia c'è un aspetto eh c'è un aspetto eh c'è uno me lo segna acquatico ecco vabbè capirai c'è un aspetto baciamolo guarda come sei ridotto ora ma lo sento qua chris dov'è è tutto finito merda puttana non ho molto tempo ma come la scheda non funziona cazzo cazzo io devo anche ripararlo per usarlo serio? perché così lo sposto porca puttana vai 29 secondi forse eh la vedo grigia per il nostro rush eh la vado molto grigia anch'io Ffff! 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 Non fermarti, coniglio! Adi ancora! Burta poptana! Mi piacciono gli Enigni! Ffff! Ffff! Oh grazie a Dio! Tiraci fuori di qui! Ffff! Ffff! Siamo finiti! Apri per favore! E caga! Fanno uscire di qui, che giuro che smetterebbe scadeggia e addosso un'azienda delle donne! Ah! È muovetevi, uscite però! Spremiamolo ancora un po', finché non resta più neanche una gozza! Ffff! Ffff! La nostra sopravvivenza! Ffff! Spaglio che ti decatene! ELEVATI IDIOTA! Minchia! E mezzo! Grazie! Ffff! 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 Oh, uno l'ho liberato! Ffff! 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 Eh, vabbè, lo pageranno, vaffanculo ! Aspetta Aspetta mi stranzo Non morire Ma che pe... Non uccidere Vabbè vaffanculo Un paio sono morti Non mancheranno nessuno perché erano degli idioti Perché tu fra quelli che Fra quello che ho ammazzato di botta Perché non mi faccia passare Questi strozzi sono morti tre Zil badrona Via via da qui Adesso Mi ricorda qualcosa di familiare Come se qui ci fossimo già stati Rilassati Fa con calma Ammanettati Oppure Ammanettati Eh dai guarda Lo vedi quanto è facile andare d'accordo Volevo soltanto che tu lo capissi Volevo che tu capissi Che le cose sarebbero andate diversamente Se ci avessi ascoltato E te ne fossi andato via Invece Tu hai preferito il bastone Ecco a te Oh Cazzo Si metterà una vita a pulire gli stivali Da tutti questi sogni infrante Beh che dire Prima che arrivasse tu Tutto andava fottutamente bene E poi sei arrivato tu Il tuo cazzo di treno pieno di fighetti del cazzo Hai provato a trasformare questo posto in qualcosa che non potrà poi E quando abbiamo provato a ragionare con te Allora tu hai pensato bene di iniziare a fare casino 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 Tutto perché pensavi che ci potesse essere speranza per il futuro Non c'è speranza per voi E nemmeno futuro Per nessuno di voi Ha 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 Boom boom ha 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 Il dubbi fa un cazzo praticamente Che figata Intervallo Anche siamo al cinema Mickey e lui Anni fa Oh no ci fanno vedere la loro storia Michelle Tra vostro padre non lo farà Lui ha sempre grandi piani Ma ogni cosa che fa Finisce con la violenza Papà risolve i problemi No lui li crea Si lascia Alle spalle una scia di cadaveri Non gli importa chi si fa del male Non diventate come lui Promettetevi che non diventerete come lui Sì mamma Lo uscito non è solo Non aggessere come lui Perfetto Musica Luke, è fatta L'hai visto anche tu Ma come cazzo hanno fatto? Era tutto normale, poi sono andati a nord Forse è il caso di fare delle domande a quei fanatici L'hai visto? Rush, mi dispiace Mi dispiace se sono salita su quel treno E di averti portato a Hope County Ti ricorderemo per sempre Hai rischiato per noi e ti è costato la vita È stata colpa mia Rush Faremo del nostro meglio Era un grande uomo Generoso E tu hai fatto tutto quello che potevi Quelle gemelle sono sempre una mossa avanti Serve un'altra strategia Vado a vedere come sta Carmina Quando vuoi sentire cosa ho in mente Vieni da me No. Grazie a tutti.